ragazzi ciao ragazze benvenuti a radio senza anima questa volta video senza anima perché non vedrete tutto nero ma vedrete qualcosa di veramente carino allora 1 2 3 anzi no 3 2 1 guardate questa è una borsa sorpresa disney princess indovinate chi me l'ha regalata indovinate indovinate ebbene sì christian l'ho mandato a prendermi due tre cosine qua al supermercato e mi è capitato a casa con questa che amore allora adesso facciamo lo spacchettamento anzi apriamo insieme e vediamo cosa c'è dentro in questa busta a sorpresa disney princess ok adesso posto nel mio cavalletto super moderno un affare con i limoni e le caramelle ecco l'ho posto qua e cominciamo ad aprire eccomi qua con il mio cavalletto super moderno questo è la busta scusatemi andiamo ad aprirla aspettate e vediamo aspettate che non vorrei rompere la borsa perché è carina mi sento molto chiara ad alessandro in questo momento mi sento molto chiara ad alessandro comunque eccola qua andiamo a vedere cosa c'è dentro allora c'è uno che carini guardate oh che carini dei post 100 morbidi stickers attaccali tutti carini all'interno trovi 100 stickers più una play set più un funk book apriamo sta roba apriamo vediamo cosa c'è dentro aspettate ma che carini bellini guardate tutti quei brillantini bellissimi ha una scheda così andiamo a vedere cosa c'è dentro ah c'è il coso vedete attacca e stacca bellissimi qua c'è un affare così e qua ah forse qua sono da attaccare credo e fare la storia credo aspettate che leggo ah qua c'è il libretto qua c'è il libretto c'era una volta ah c'è la storia qua praticamente bellina potrei farne un video e leggerla c'era una volta esistono ma che bellina la bellezza del cuore ma sapete che quasi quasi la leggo questa in un video questa qua quasi quasi la leggo in un video e attacco gli sticker poi le regalo a qualche bambina qua magari che abita qua le regalo perché io cosa ne faccio magari tengo tengo questi che sono carini o sennò riempio il frigo e li attacco su ma sono veramente carini e ok poi vediamo cosa altro c'è dentro io sono come i bambini ragazzi è come i bambini apriamo cosa ci sarà dentro c'è dentro vediamo giochi disegni e colora con cenerè oh che belli da colorare guardate che belli i giochi da colorare c'è un giochino qua rischia di arrivare tardi completa l'immagine bellino di cenerentola comunque c'è dentro questo poi c'è dentro anche questo bellino ma guarda questo lo metterò in borsa bello questo lo tengo io lo metto in borsa vedete 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 ecco bellino questo lo metto in borsa bello serve sempre poi c'è dentro questo lo metto in borsa una matita vedete una matita poi c'è dentro questo un cuore un cuore che si apre tipo per mettere vedi qua magari le bambine ci possono metterle caramelle e io ci metterò le pastiglie ragazzi le bambine ci mettono le caramelle io ci metterò le pastiglie qua dentro per la pressione alta ecco lo metterò in borsa ecco questo lo tengo lo metterò in borsa no dai gli metterò magari le caramelle o qualcosa bellino però bellino però bello bello mi piace mi piace piace qualche altro c'è oh che cos'è sta roba ah i glitter aspettate che vi faccio vedere ah la colla qui glitter bella la colla qui glitter di cenerentola bellina bellina la colla qui glitter di cenerentola bellissima poi che altro c'è oh bellina anche questa c'è pure profumata eppure profumata di non so di che però è profumata di qualcosa la gomma di cenerentola fatta a libro bella vedete bella e poi cosa c'è dentro più più niente non c'è dentro più niente più niente e qua dentro cosa c'è c'è ah c'è questo che praticamente serviva per aspettate c'era dentro questo benvenuto in un mondo di bellissime sorprese dove il divertimento non finisce mai scoprile con me tutto il divertimento che vuoi colora e vestiti no colora e vestiti il re pinguino come vuoi tu ah è da colorare anche questo il re pinguino questo e poi basta vuoto ma che bellino comunque di questa cosa terrò sicuramente la matita che la metterò in borsa questo sicuramente che lo metterò in borsa questo sicuramente pure questo lo metterò in borsa con dentro o le caramelle o qualcosa è sempre utile da mettere in borsa poi anche questo lo tengo da mettere in borsa nel mio astuccio e poi queste sicuramente le attacco un po' nel frigo e queste con queste ci farò però ci posso fare qualcosa con queste devo ancora pensare cosa ma ci voglio fare qualcosa no non le regalo a nessuno col cavolo ma le hanno regalate a me io non le regalo sicuramente ci farò qualcosa e questo invece magari le storie dentro qua ditemi voi se volete vi farò un video dove leggerò le storie che ci sono dentro c'era una volta un regno incantato dove i sogni diventavano realtà e dove ti va di esplorarlo con noi eh vabbè apri la valigetta ed entra nel mondo delle principali ah ma prima dovevo leggere questo Disney Biancaneve Cenerentola Aurora e Belle ti aspettano per accompagnarti nei luoghi più incantati dei loro regni alla scoperta di incantevoli foreste e meravigliosi castelli da inizio alla magia all'interno della confezione trovi tanti morbidissimi sticker ambientazioni da favola per vivere i momenti più emozionanti delle tue storie preferite creare tante nuove avventure in compagnia delle principesse e dei loro amici scatena la tua fantasia e comincia a giocare subito e qua poi la più bella del re ah la dolce biancaneve a tutte le idioti idioti ah no la dolce biancaneve a tutte le doti di una perfetta principessa è buona e generosa di una bellezza incredibile gentile con chiunque perfino con la regina cattiva io ne conosco una che la tratta con crudeltà e freddezza mi qua parlan di loro nella casetta dei sette nani in mezzo alla foresta biancaneve si diverte a pulire e cucinare deliziosi manicaretti mi qua parlan di lady che fa i manicaretti con la cucina in miniatura manicaretti per i suoi piccoli amici mentre nel profondo del cuore sogna di ricevere al più presto il bacio del vero amore del suo bel principe mi bello però c'era una volta esistono ben sette vabbè qua non c'entra vabbè ma queste ve le leggo ve le posso leggere da una parte vi leggerò questo libretto magari in maniera ironica in un altro video ci sono su delle belle storielle da leggere e anche questo tantissime morbidi io penso che gioca con i cento sticker di inventarti le storie sono attacca e stacca che praticamente quali puoi attaccare e staccare inventarti le storie e qua lo chiudi tipo una valigetta no ma questo lo regalerò alla bambina magari qua che abita che ha sei anni regalerò a lei questo leggo le storie e poi regalo a lei vabbè comunque io spero che questo video spacchettamento della mia scopri sorpresa nel regno delle principesse vi sia piaciuto vi do appuntamento alla prossima vi mando un bacio super grande e alla prossima e vi saluto io e le principesse tra tre due uno